Ciao, invito tutti a recarsi presso l'URP in via Garibati di fianco al cinema per firmare la petizione a sostegno della legge di iniziativa popolare per introdurre l'educazione alla cittadinanza nelle scuole. Con la tua firma potrai dare un contributo concreto affinché i nostri ragazzi possano essere adeguatamente formati e diventare cittadini consapevoli e responsabili, come ci chiede la nostra Costituzione. Firmate, è importante, abbiamo tempo fino a venerdì 7 dicembre.